Seguite a me, seguite a me No, non a rosso, cosa state dicendo? Seguite a me, perché vanno al blu Non a rosso, non si va a rosso, fidatemi Se si vuole invadere si va di qua Io seguo il robocone Anch'io Chi dia nasce di roba Lui si che ci porta la vittoria State in brio Mmm, davvero affascinante Una v Una v L'ho fatta Dai, Osmai Ha flashato, bella ha flashato, ci si vede la prossima volta Oh, ma potevamo Ucciderla Osmai Se facevi la Q prima potevamo Siamo qui comunque noi Volete fare una tentativa numero 2 Eh ma si, siamo in 5 Si, no, aspetta Troppini, vada qua Siamo in 5 Siamo in 5 Ma il flash Vabbè glielo facciamo usare Se si avvicinano il grabbo, sennò no Eh? Ehi, come qui? C'ha Vayne? Uh uh, Vayne alla flash Buona Bene Top, vai top tu Eh, Osmai inizia ad andare top Anzi no, fai, no Buona Non ci sono TP Sono d'accordo Mi sbaglio Cane Oh, vai via, vai via Vai via Tanto adesso, tanto adesso l'expeer la prendi tu Anche se stiamo lì Boh ma è per farmi ritornare Ok Ok, c'è Gianna Oh, mille Ah, è vero, ho presso un cominciato di W Perché sono in 2 Ok Non fatti prendere qualcosa, devi prendere, ma sennò non fai 2 Come no? Merda Eh non fai 2, no, il 1 Ah, ecco, bene Bella Buona fortuna adesso Quindi dovevamo restare lì Dovevamo restare là Eh sì Almeno a farli fare due cose, sennò Ah, eh, è buono No, non è un proprio, cioè adesso è buono, è anche indietro Nooo, non è un proprio, cioè adesso è buono, è anche indietro Sennò i migliori Io apprezzo il gesto Sì, infatti, gli facciamo capire che è il comando Il gesto tecnico era... C'è il grande... c'è il drago rosso, ragazzi Il prima possibile ci andiamo di farlo Sì, ma Gianna è ancora a livello 1 Sblocca... cosa hai sbloccato a livello 2? La W Sblocca... Ok, ok... Ciao, Gara Ciao Non pensare alle gomme della macchina, Rada Aspetta dopo Eh, se ne sono confuso Stavo scherzando Bella Ah... Lei mi dice chiare di metterla subito dopo quella grabata sotto di me Così io lo hanno capo e lei ci finisce sopra A meno che non faccio il predict del salto E la diminto dio Eh, ma non hai abbastanza range per farlo Spengo top C'è, non è impossibile, è impossibile preditare il salto con la tua E Perché la tua E è troppo corta C'è, nel senso che lei sbaglia il salto Ma... Non è andata E' più piccolo del suo schema Così? Eh, l'ho... Sì esatto, solo un po' prima, ma non è ancora ancora Sì, non c'è ancora Scusa, Rada Vabbè, no Tu è bel grab, bravo Bravo Pressione Ah Serve un po' di... Uuuuh... Un po' di te? Non so Buona scatto Dagli le botte a quel combo Dagli le botte Qui serve un prototipo Arriva il tornato qua Ce l'avevi lì, no? Lì in botte, allora Non c'è una rusco Ah, da mega cazzo Da C'è anche Gianna Sì sì, Gianna dove? Per questo Deve appare il rosso, deve appare il rosso No, che uccidono Che senso Rob, continua a muoverti Sì, scusa Grazie Sì Da fare il loro rosso Cerca di farmare più che puoi, ma ok? Sennò Andiamo indietro Io ho già perso un livello Eh Ah no Sì, sono sopra di qua Lui suve Lui suvei E' una notizia che sono sopra di qua, no? Buona Mi piace l'ovic Mi vengo da giusto Fugato lo shield con la troi Ok, bene qui E' Rob che sfotte gli avversari E' un po' ma ci sta La cosa necessaria, non pesca, non ci fermo la concentrazione così eh Uccidila, uccidila! Non farmi scudere, eh cazzo! Bello! Padre nostro l'ha ucciso Puta! Buona, buona, buona Bobby Perchè Garen è inseguito? Perchè era andato a cercare di finire Vayne Ben giocato Bobby che c'è quella, poi ne colla Scatto ci sono eh, ci sono Foda Ma io prendo anche un po' la Storm in realtà Ah no, ma c'è Gianna Stiamo a fare... Stiamo a rifare qui Se ci siamo più Dopo aver pushato la lane, venite al Drago Vabbè Va bene Andiamo andiamo Anche che manca a Jayce eh Sarà... No a Jayce abbiamo un sciso Vabbè Sto arrivando Ok Ok Come stai facendo ma ho cari AP? Ok Oh Gesù Boh ma adesso vai tank Vai Robica vai con la P Sì 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 Oh merda sei morto Cattiva? No niente 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 C'è Gianna anche Esatto Tutto bene Tutto bene Guarda Questa 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 Manca Tristona Ah no Ok ci sono Eh li eh li La Paglia sta bene Sempre La Paglia sta bene La Paglia sta bene La Paglia sta bene Buona Buona Una roba Un po' midi un attimo C'è Scatto arrivo mid Sì Si rada Rau rada Cerco di grabarlo Flashando ok Eh guarda che era morto Manca Gianna Ingiustizia della vita Cosmic C'è un World Qui dentro Un po' c'è Vayne eh Si si sta arrivando Un po' c'è Vayne eh Si si sta arrivando Un po' c'è Ah no Un cazzo Venga Venga Arriva 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 Così poca gli FPS 449 Una ulti Credo che era la seconda ulti Vabbè aumenta solo tu il mana Non è che aumenta il danno No No Cosa Stai parlando De l'uomo No aumenta il danno In basa quanto riguarda Ma capitai Cosa Credi Arrivano Secondo i miei calcoli C'è Ragnar E oggi adesso Ok Chiaretta devi farmare tantissimo, sei tanto indietro Eh lo so No ma farm è basta in realtà Praticamente se farm è basta E fai build di item tank Perfetto In realtà siamo abbastanza avanti Posso una nota? Si rada Si rada Su Gianna Bravo Roberto Puede un po' meno No No Bravo Vabbè vabbè è buona Dale sto arrivando Tu salva Sì Siamoci il bicchione Sì Sì Prende lo tutto corre no? Si si Sì 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 Dobbiamo prenderlo sempre in top lane Per il top lane Per il top lane C'erò sempre la ulti comunque io cazzo Ma cooldown va a messi Capto blue Movi Sì 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 Dai non è morto Mori Dai Che close Che close Che close Che close Non sono riuscito a fare lì lì in tempo No avevi lì al Nooo Eh Eh io ho schiacciato la F giusto al momento che morivo cazzo La forza dei neuroni Allora prima cosa non devi mai tenere lì al sull'F ma sulla D Perchè la F è la F di Flash Sì Ma io l'ho sempre usato al primo Sì 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 Nooo Nooo Andate 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 Oddio di sfideremi Sono ritardati e non la prendono Eh sta venendo Cogbo Allora a rivedere gli schemi Chieretta guarda questi tre campi Guardali Sì Volevo andare prima verso il blu lato E se non c'è hai perso venti secondi a fare nulla No no Occhio occhio Cagione Ho fatto il drago Ho fatto il drago Ho fatto il drago Ho fatto il drago Ecco Ogwon È qui Linx Sì Linx No Ho preso io il blu eh No Bravo Bravo Sì 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 Andiamo a fare Andiamo tutti i bot Top o bot Mid Fate quel cazzo che volete Insomma L'importante è andare tutti e cinque in un punto Ah ok Allora arrivo anche io mid Posso aggiustarlo Però in bot mi prendo la torre Vado bot Oh difendo in bot Calo mid Che figlio di puttana che culo che ha avuto Oggetti uccide Ti uccide Invece? Invece? Invece ti uccide lo stesso Sì 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 Eccolo BOOM BITCH BOOM Ha 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 Sì 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 Un milione meno qua Ok Non serve Sì 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 Guardi direi dentro Tipo da soli Sì 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 Ma tipo se io lancio il razzone dalla base dovrebbe fare abbastanza danno per uccidere un carry Sì 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 No Ma sei fuori il razzo fammi parecchio Guarda che basta che metti il tuo Metti il console sulla R Ma è che la tua razza? No Metti il console sulla tua R Spurre? Cosa c'è scritto? MASSIMUM DAMAGE Mi pare che sia tipo 800 in tutto C'è scritto fino a un massimo di e poi un numero di danza Cos'è l'ultimo? No C'è scritto un massimo Da 30 a 150 Da 30 a 150 Da 30 a 150 Più 19 a 350 Più 188 danni fisici Giù giù a 350 più 188 Sono 590 Una di carri a 2000 di vita Tristana ne ha 1200 Mi fa i 500 danni al massimo Il tuo razzo non fa così male Top Spero ci cercassero Aia Dovevano andare tutti top Comunque Sì Facciamo Andiamo da scatto Sì Io li distravo E' troppo pigro per venire top Chiarità di la verità Sì era troppo distante Entro in base Peccato proprio Un po' più Peccato una torre ragazzi Non Gian Che scarso Un po' più scarso Ragazzi Ragazzi Che cazzo Passa un chiarità selvatico dietro Eh non so voi ma insomma Eh Arriva il bovino a salvarti Miami DV Dv Mi Dv 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 Sì, perfetto, perfetto, ci siamo. Sono anche arresi, scoppio due volte. Avemmo detto io che eravamo troppo forti, quindi era uguale.